Non poteva che essere presentato al motovellodromo Fausto Coppi di Corso Casale a Torino il catalogo con i pacchetti cicloturistici sulle strade del grande ciclismo in Piemonte. VIE è un'iniziativa che scaturisce dall'impegno dell'UNCE in Piemonte e di un ampio partenariato di consorzi degli operatori turistici, tour operator, associazione di albergatori e aziende turistiche locali. Si va ben oltre il semplice concetto di cicloturismo. I 16 pacchetti di soggiorno e scoperte dei territori in sella alla bici da corsa, mountain bike o gravel da 3 a 6 giorni si muovono fra Piemonte e Liguria, sulle strade e sulle montagne più belle, quelle su cui sono transitati e transiteranno Giro d'Italia, Tour de France e classiche del ciclismo amatoriale come la cunese Fausto Coppi e la Valsusina Pellegrina Bike Marathon. Questo può diventare un importantissimo prodotto turistico per tutte le nostre vallate? Direi che come promozione del nostro territorio, passare attraverso il ciclismo e la sua storia può essere davvero un volano per lo sviluppo turistico, perché abbiamo dei territori che si prestano molto bene alla scoperta attraverso la bicicletta e quindi agganciandoci a questa rinnovata passione per il ciclismo direi che possiamo davvero far crescere il nostro territorio. Oltre alla manutenzione delle strade asfaltate come il Nimolè, sterrate come il Colle delle Finestre, che cosa può fare Città Metropolitana per spingere questo movimento turistico? Città Metropolitana può lavorare sicuramente sulla promozione. Devo dire che il nostro ruolo è principalmente quello di fare manutenzione delle strade e dei percorsi, ma possiamo anche essere accanto ai territori, fare il nostro compito di area vasta di sviluppo e promozione delle nostre aree interne e quindi accompagnare questi percorsi virtuosi per far conoscere ciò che di bello la città metropolitana ha da offrire. Per le nostre vallate, dal Nimolè al Coldinava, che cosa può diventare questo prodotto turismo in termini proprio di economia e di persone che rimangono nelle valli? Noi con questo progetto abbiamo cercato di mettere insieme i vari attori, nel senso che non basta fare iniziative sul turismo, non bastano le piste ciclabili, non basta avere strutture ricettive, non basta avere strade dedicate, bisogna mettere insieme tutto. L'abbiamo fatto in un luogo simbolico come questo, cioè il motovellodromo, perché etimologicamente simbolo significa mettere insieme. Noi vogliamo mettere insieme e allora vuol dire far sì che il prodotto turistico ciclismo diventi destinazione turistica e per farla diventare destinazione turistica bisogna mettere insieme le cose e quindi vuol dire mettere insieme le strutture ricettive, vuol dire mettere insieme chi vende il prodotto, vuol dire mettere insieme anche le emozioni. Abbiamo messo insieme dei territori, le città con i colli, le città con le zone di pianura, con le grandi emozioni delle grandi montagne. Siamo convinti che una destinazione turistica per gente che arriva da altre parti dell'Italia, dell'Europa e del mondo possa creare economia perché chi si muove per fare 5, 6 giorni, 7 giorni su un territorio lascia risorse sul territorio. Se no ci limitiamo a fare l'evento di una giornata che ti può anche portare i 3.000, i 5.000 professionisti tra virgolette dell'iniziativa ciclistica che è importante assolutamente ma che sui territori troppe volte lascia solo dei rancori. Non possiamo più permetterci i rancori, dobbiamo assolutamente far sì che il prodotto ciclismo sia realisticamente un prodotto economico. Economia, tanto per stare all'etimologia, significa prendersi cura della propria casa. Allora noi tra il mettere insieme e prendersi cura della propria casa crediamo di aver contribuito a creare un prodotto che prenda cura e metta insieme i territori.